namaste io sono ace the brave benvenuti al secondo giorno dei saldi natalizi del 2014 di steam il secondo video sui saldi natalizi vi ricordo il contest che è in corso come vedete qua sopra c'è un'immagine che è stata fatta da egged o edged o qualcosa del genere me l'ha spedita subito e devo dire che è molto carina con appunto il personaggino con di the binding goff isaac appunto isaac con i capelli il pizzetto e che ha trovato gli occhiali da sole devo dire che è stato molto carino a fare questo questo disegno ci siamo sentiti appunto gli regalerò hell yeah che è un gioco che ho visto fare da manfredi marcus cron penso dovrebbe essere quello e non è niente male ve lo consiglio anche tra le varie cose vediamo poi i saldi natalizi di oggi perché sono molto interessanti a vedere subito dalla dall'impostazione alcuni non li conosco e quindi magari ditemelo anche voi se vi sono piaciuti eccetera ad esempio rise of nation e the vanishing of it and carter me ne parlano tantissimo però non ho ancora guardato nel dettaglio praticamente ve ne consiglierei tantissimi qua europa universalis 4 è un simulatore così come lo è stato crusader king sempre della paradox la paradox fa giochi fantastici ogni volta a quanto pare e ve lo consiglio tantissimo è ambientato dopo crusader king praticamente anche in un periodo credo che si sovrapponga crusader king che è una delle serie che vedrete ritornare molto prezzo sul canale stronghold crusader 2 ha uno sconto del 33 per cento è un seguito di stronghold crusader 1 molto semplicemente è un gioco che purtroppo mi ha dato qualche problemino nel senso che io ho una copia fatta da che messa mi è arrivata direttamente dalla dalla firefly studios adesso l'ho provato anche sul computer nuovo fa molta fatica a girare vi dico ma è comunque un buon titolo non ci sono tantissime innovazioni ma le innovazioni che ci sono sono abbastanza abbastanza carine un gioco che vi consiglio assolutamente è the mining of ice akrab earth ovviamente con il 33 per cento di sconto è un titolo fantastico e che supera secondo me in qualità il predecessore è semplicemente un remake fatto meglio per quanto riguarda dal punto di vista grafico e io non apprezzavo tanto lo stile flash e infatti apprezzo molto lo stile un po più pixelato del e con un motore grafico insomma completamente nuovo di questo the binding of isaac prison architect un altro simulatore di piggio di prigioni si un prison builder chiamiamolo così l'ho provato sto ancora architettando una serie da mettere sul canale ve lo consiglio sicuramente da darci un'occhiata soprattutto perché i ragazzi che lo stanno costruendo sono molto auto ironici e quindi quando c'è un bug lo fanno notare in tutte le maniere possibili anche nei trailer si vedono queste cose ma le stanno risolvendo tanti poi che cosa abbiamo di bello alcuni li salto semplicemente perché non li conosco quindi se mi acchiappa l'attenzione ve lo dico subito tra poco ci sarà risk of rain in saldo che ve lo consiglio è un gioco molto carino in cui interpretate un personaggino che è molto 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 piccolo e dovete sparare in giro in una situazione molto molto arcade retro però è molto carino perché ci sono un sacco di oggetti e quindi se vi piace the binding of isaac sicuramente vi piacerà anche risk of rain in un certo senso perché hanno degli aspetti molto simili c'è mass effect 2 la serie di mass effect è una serie che io conosco molto poco perché non l'ho mai giocato tutto nel senso ho giocato il primo e neanche tutto purtroppo quindi dovrò col tempo documentarmi meglio sulla cosa cities in motion appunto è col 75 per cento di sconto e come voto di oggi voglio mettere tra le varie opzioni c'è city come lo faccio a non votare city xl platinum il diretto concorrente di sim city con degli aspetti leggermente diversi un sacco di bug e un sacco di cose che non mi sono piaciute dal punto di vista commerciale il fatto che cities xl platinum è praticamente identico alla versione precedente cambia che sono state aggiunte due mappe qualcosa del genere e vendere completamente il gioco nuovo senza vendere un piccolo dlc con una mappa sarebbe stato più consono comunque se non ce l'avete compratevelo nella versione quella che volete in realtà 2012 platino sono identiche cambia due mappe perché è un gioco molto molto carino e è uscito prima di sim city l'ultimo sim city e alcuni aspetti sono addirittura superiori a sim city alcuni degli aspetti sottolineo non tutti purtroppo però c'è una uno sviluppo successivo che che verrà fuori da appunto questo city xl platinum spero che ne uscirà un altro in futuro che però non è un city con quel cosino in più vorrei un gioco completamente diverso che prende l'esperienza di city xl e la migliora ancora di più quindi votiamolo pure probabilmente non riuscirò a votarlo perché internet oggi va abbastanza di schifo devo prendermi assolutamente una scheda di rete e che cosa dirvi devo dire che ci sono un bel po di offerte oggi quindi andatevele pure a vedere altre cose se vedete che non accetto le vostre amicizie perché ho gli slot pieni quindi se avete delle carte di steam doppi eccetera contattatemi perché così possiamo fare degli scambi mi permettono di fare le medaglie che mi aumentano gli slot per gli amici quindi c'è la possibilità di fare io colleziono carte semplicemente per poter aumentare la lista degli amici che posso accettare quindi aumentare le persone con cui posso essere in contatto con questo è tutto ci vediamo domani santa ace ancora qua mi raccomando mandate a ace the contest chiocciolagmail.com le vostre immagini per vincere un gioco ne parliamo e vi prendo un gioco se non ce l'ho nell'inventario e ci vediamo domani fa un caldo terribile qua e da ace the brave è tutto namaste and be brave e ci vediamo domani